1, 2, 3 E buonasera ragazzi bentornati e benvenuti in questo nuovo video delle recensioni degli snapshot di minecraft Allora siamo qui oggi per recensire lo snapshot 17W13A che è uscito stamattina verso le 10 e mezzo 11 Dici che io stavo a scuola e ho scritto un casino perché volevo fare il video appena uscito e questi nomi lo pubblicano alle 10 e mezzo Quindi non posso farlo perché appunto sono a scuola Quindi cosa comporta questo snapshot? Non tanti cambiamenti, non tantissimi, infatti vedete sono circa 5-6 cose Ma è lo snapshot che ci fa capire comunque che questa nuova versione di minecraft non sarà incentrata sulle decorazioni Quindi come pensiamo bensì sui colori in generale Quindi appunto prima c'è stata una rivoluzione di colori con l'aggiunta dei blocchi di terracotta E adesso ci sono altre nuove cose che sono riuscite, ma allora che sono trapegate da questo nuovo snapshot Allora iniziamo subito con la novità più bella ovviamente I pappagalli che sono questi esseri qua che ho un attimo ingabbiato malamente in questa gabbia brutta Su cui c'è un albero di giungla proprio perché i pappagalli sponano nella giungla Non ho capito perché non mi fa scendere Vabbè Proprio perché i pappagalli appunto sponano nella giungla I pappagalli, vabbè questo è l'uomo dei pappagalli e sono... mangiano biscotti Quindi se noi vediamo adesso qua, diamo il biscottino e questo ci fa i cuoricini Cosa succede? Che una volta fatti i cuoricini il pappagallo inizierà a seguirci Se vedete inizia a seguirci E noi possiamo anche fare un'altra cosa molto bella Io quant'altro ho ancora i colori per aver fatto la scritta Dove sta pappagallo? Dove sei? Pappagallo? Pappagallo? Vabbè ok Noi possiamo anche fare una cosa molto bella Se clicchiamo col tasto adesso sul pappagallo questo scomparirà Perché che fine ha fatto? È sulla nostra spalla È una cosa molto figa Ci rimarrà anche se corriamo Però se saltiamo questo volerà via Perché non so, perché non so se è una cosa fatta apposta O se è un bug che poi risolveranno più avanti I... le uova di pappagallo sono... Cioè non le uova, i tipi di pappagallo sono tanti Cioè questo azzurrino, questo blu, un altro blu C'è questo verde e c'è questo rosso Sono questi quattro colori Eh... una caratteristica molto figa di pappagalli È che... se noi prendiamo un qualsiasi mob Tipo per esempio il creeper Che è successo? Ho fatto paura Dove sta il mob? Vabbè ho messo qua fuori Chi se ne prega Dove... Ah ma perché non mi vede il creeper? Beh si sono buggate le uova Perché vabbè in questo snapshot raga Mezza roba è buggata Tutto buggato qua Vabbè praticamente Ehm... tipo i cartelli sono buggati Si sono buggati il bico Non è buggato tutto quanto I pappagalli imiteranno il verso del mob Che gli sta accanto Infatti se riuscissi a sponare uno scheleto Comunque prima dovreste averlo sentito Che i pappagalli appunto Imitano il suono del mob che gli sta accanto Allora non so perché non mi fa sponare mob Quindi vabbè Questa cosa è abbastanza carina Perché potremmo fare una specie di sistema di allarme Si potrebbe fare O anche non so in una mappa potrebbe essere utilizzato Tipo per riprodurre appunto i suoni dei mob Ehm... qui c'era un gesto Non so perché l'ho lasciata qua Ma vabbè Sabbia Sabbia Casissimo Ehm... allora procediamo subito con la novità C'è questa cosa qua Questa cosa qua che sarebbe una specie di robot L'ho creato io Cioè l'ho costruito così io Perché? Perché se noi Quindi clicchiamo insieme Ctrl più B Ok E si sente questa voce appunto Ripolliamo un attimo Che dice Narratore attivo in inglese più o meno Cosa succede? Cos'è questo narratore? E' una specie di voce computerizzata Che se noi scriviamo una qualunque cosa In chat tipo hi Che vuol dire ciao Lui ci dirà Che vai try Ci leggerà praticamente Quello Che abbiamo scritto E' mezzo buggato eh Perché non è che dica tutto quanto Molto bene Però Funziona teoricamente con le cose in italiano Per esempio Se scrivo is beautiful Beauty Full Sarebbe Ted White is beautiful Ted White is beautiful Ecco Anche in inglese non è che sia molto Molto Utile Diciamo Non è molto buona Però se scriviamo in italiano è ancora peggio Perché se scriviamo è bello Ted White è bello Ah no adesso me lo prende Vabbè Però se scriviamo qualcosa di più complica Tipo Puzza di cacca Ted White puzza di cacca Vabbè Eh raga So sfigato Tutte le parole belle Tutte le parole che riesce a leggere Le becco io Tipo E' E' Una Merdaccia Teoricamente non ci dovrebbe leggere Ted White è una merdaccia Eh vabbè Gli insulti me li becca a tutti E se scrivo Ted White È il Più Grande Giocatore Al mondo Mondo Ted White è il più grande giocatore al mondo Ok raga Allora ho capito perché Probabilmente ho capito perché Perché io ho Minecraft in italiano E quindi avendo in italiano I messaggi in italiano me li legge bene Mentre quelli in inglese non me li legge bene Quindi meglio Meglio perché Posso almeno insultare Laika con questo robot E Gli ho dato questa faccia perché Cioè sarebbe l'osservatore questo Ma ditemi se non è Se quella voce non è di questa cosa Adesso vi faccio vedere Mentre parla Ted White mi fai schifo Ecco vedi Proprio È la sua voce Tra l'altro mi legge il nome Ted White Quindi vabbè Vabbè sto zitto Un'altra cosa che hanno aggiunto Sono I nomi Alf Ai Beacon Che appunto Anche si sono buggati in questo snapshot Ma vabbè E I nomi ai Beacon Ovvero Se vedete ci avviciniamoci Di a Gifaro Se noi però lo nominiamo Con una qualsiasi targhetta Ovviamente L'ho nominato a Ambrogio Ci darà No sto stupido Shiftato magari E No Non me lo rinomina Non me lo rinomina Forse bisogna farlo con l'incudine Scusatemi Vediamo un attimo Incudine Beacon Beacon Ok Teoricamente forse così dovrebbe funzionare Forse ho sbagliato Io Sorry 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 Lo chiamo Ambrogio Ambrogio Ok E lo piazzo Ok si Bisogna Rinominarlo con l'incudine E quindi niente È una cosa Carina Normale Comunque niente di che Un'altra cosa che hanno fatto È che hanno cambiato La texture Del Del Della terracotta Arancione Quindi Dato che hanno cambiato Questa Morano in futuro Potrebbero anche Cambiarne altre Non so bene come funzioni Adesso Vedremo poi Nei prossimi snapshot Cosa accadrà Un'altra cosa ancora Che è stata aggiunta Che ha aggiunto Dinnerbone Che era uno sviluppatore Che aveva abbandonato Un po' di tempo fa Lo sviluppo di minecraft E che è tornato con l'ultimo Aggiornamento È questo qua Se noi Ah no Aspettate Cominciamo un attimo da qua Se noi Prendiamo un materiale Che non abbiamo mai Mai toccato Quindi per esempio La bioce che teoricamente Non ho mai toccato E infatti Ci compare in chat New recipe Allocad For minecraft Birch planks Ovvero Abbiamo sbloccato Il blocco Di birch grezza Cosa succede Avendolo sbloccato Noi possiamo andare Nella crafting table Ehm Avendolo sbloccato Non ho capito perché Perché non c'è Ci dovrebbe essere Un tastino qua Che però non c'è Ehm Per quale motivo Raga Non so per quale motivo Non c'è Sì Vabbè Ehm Non ho capito Per quale motivo Non c'è Comunque ci dovrebbe essere Un tastino qua Con un libro Tipo Forse dobbiamo craftare Qualcosa prima No Non lo so Ci dovrebbe essere Un tastino qua Con un libro Ah eccolo C'è però non si vede Mezzo buggato Ehm Appunto Dovrebbe essere qua Il tastino Però non si vede Vabbè Che se noi andiamo A vedere Ci ha sbloccato Tutti quanti I crafting possibili Con i materiali Che noi abbiamo toccato Quindi se io ho toccato Il ferro La giungla Tutte queste cose qua Possiamo Craftare Tutte queste cose Ci fa vedere Quelle che possiamo Craftare Al momento Con i materiali Che abbiamo Quindi una pedana Possiamo craftare Tutto il resto E quelli che non possiamo Craftare E' una cosa Utile per chi magari Non ha mai giocato A minecraft A iniziare adesso E Ehm Comunque E' una cosa che Non utilizzerò Probabilmente Però potrebbe essere utile Per chi non ha mai giocato Qui non mi ricordo Mi metto ste cose Ok si Questa qua Una nuova game rule Perché Raga Anche i cartelli Sono buggati Quindi mi sono messi Command block Questa qua E' una nuova game rule Che se la scriviamo Game Rule Do Limited Crafting True Cosa succederà? Che noi Andando qua Sul pulsantino magico Che non ho capito Perché Ah forse non si vede Perché lo ha texture Scusate Scusatemi tanto Ma non credo Perché vabbè Ehm Se noi andiamo qua Le cose che non abbiamo sbloccato Quindi per esempio Io qua Vedendo di tutti quanti Non ho Che ne so Ehm P-p-p- Aspettate Le torce Facciamo le torce Va prendiamo il carbone Così possiamo fare le torce Dove stanno Il carbone Dove è il carbone Dove è il carbone Dove è il carbone Raga Non mi ricordo mai In creative Come stanno le cose Ok Se noi prendiamo il carbone Ok Possiamo craftare le torce Teoricamente Qui non ce lo fa vedere Se noi facciamo così Mettiamo quindi I stick E Il carbone Per fare la torcia Non ce la fa prendere la torcia Vedete Non ci fa prendere la torcia Perché? Perché abbiamo messo a punto Questa game rule Che Se non abbiamo Scoperto I I materiali Cioè non i materiali Un po' In Non abbiamo scoperto La L'oggetto Non l'abbiamo già scoperto Non ce lo fa craftare Quindi per esempio Questa cosa può essere utile Non so In una mappa In cui devi sbloccare Degli oggetti Per andare avanti E È una cosa Abbastanza carina Magari in survival Non servirà a niente Però in una mappa Potrebbe essere un'invenzione carina Qui non mi ricordo cos'è Ah E sono gli advanced Che Sono un'altra cosa Aggiunta da Dinnerbone Che sono appunto Questi qua Sono degli achievement Un po' particolari Però Qui abbiamo la barra Base degli achievement Quindi Il minecraft Il milestone L'upgrade tool Tutti quanti Che possiamo scorrere E andare a vedere Si fermano al beacon Perché? Perché andando avanti nel gioco Se vedete qua in alto Ci sta un piccolo blocco di minecraft Un piccolo blocco d'erba Che servirà appunto Perché Più avanti Potremo sbloccare Altri blocchi Cioè quindi altre sezioni Dei advancement Che appunto Ci sbloccheranno Altri achievement E questi qua Saranno poi Personalizzabili Attraverso Non attraverso Il gioco Ma attraverso Le cartelle di minecraft E che è una cosa Abbastanza carina Per Appunto Anche questa qua Per una mappa E può essere carino Sbloccando gli obiettivi Della mappa Quindi che ne so Ti fai Devi andare a prendere Il biscotto Dallo zombie Fai l'obiettivo Prendi il biscotto Dallo zombie E quando lo fai Ti compare Hai preso il biscotto Dallo zombie E quindi niente Queste sono le cose Basiche Che hanno aggiunto Col nuovo aggiornamento Aspettiamo Un nuovo snapshot Io cercherò Di tenerlo sempre Sempre aggiornati Mi raccomando Condividete il video Per farlo vedere A tutti quanti i giocatori In modo che sappiano Cosa li aspetta Nella prossima versione Quindi io direi Che se il video è piaciuto Lasciate like Commentate Condividete Di tutti quelli che conoscete Che non conoscete Che c'è la talissima Seguite anche su Instagram Facebook Comuni via Vi lasciamo qui sotto In descrizione Anche al bellissimo Nuovissimo Fantasticissimo sito Dove probabilmente Faremo uscire anche Un articolo sul nuovo snapshot E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione